Live! Buongiorno stampatori, buongiorno a tutti voi che ci seguite sul canale di Fenix Digital Group. Sono Dario di Fenix e oggi vi voglio parlare di premiato stabilimento tipografico dei comuni, che è una delle aziende che trovate all'interno di Più Colore al Tuo Business, e siamo in compagnia di Gabriele Nobili, vicepresidente dell'azienda. Ciao Gabriele, benvenuto. Buongiorno a tutti, sono Gabriele Nobili, grazie a Fenix dell'opportunità. Innanzitutto vorrei partire col presentare un attimo l'azienda tipografico, chi siamo, cosa facciamo. Siamo sempre stati una tipografia tradizionale, abbiamo sempre stampato il prodotto per prevalentemente enti pubblici, quindi aziende, USL, comuni, ma anche altre equiparate come Equitalia, Agenzia delle Entrate, Poligrafico e Tecca dello Stato. E di fatto abbiamo sempre lavorato in maniera tradizionale. Poi a un certo punto della nostra vita lavorativa abbiamo sentito l'esigenza di espandere, migliorare quello che già stavamo facendo e introdurre anche prodotti nuovi, alternativi, per andare a soddisfare poi anche le esigenze dei clienti, sia quelli storici che andarne a trovare di nuovi sul mercato una volta fatto appunto gli investimenti. Perfetto, Gabriele, ovviamente la vostra azienda è un'azienda storica sul territorio che si è sempre occupata di fare produzione carta, quindi produzione tradizionale, diciamo analogica a tutto il mondo dell'offset, quindi la produzione di manifesti e tutto ciò che può essere correlato appunto al prodotto cartaceo. E all'interno del libro Più colora il tuo business trovate la parte di introduzione su perché e qual è stata l'esperienza di premiato stabilimento per, diciamo, tecnologie e strumenti a supporto dell'attività, a supporto dello sviluppo del business, in particolare quindi nel capitolo 8, questo capitolo, e a pagina 208. Nel caso specifico, una delle esigenze appunto di, come diceva poco fa Gabriele, una delle loro esigenze era quella in un periodo particolare, quindi qualche anno fa, di trasformare o comunque riuscire a digitalizzare la produzione per poter fare l'on demand, di manifesti ad alta velocità. E da lì siete partiti, giusto? Certo, la partenza è stata proprio questa, quindi avere una macchina più flessibile, più veloce per andare incontro a esigenze a volte di tirature che sono magari sempre elevate, più frastagliate, quindi potersi risparmiare le lastre in alcuni casi, come nel nostro caso, quando si vanno a fare manifesti elettorali di piccoli comuni, avere una macchina come la PageWide può essere strategico sia da un punto di vista del formato, quindi, che dal punto di vista della velocità e della flessibilità, quindi permettendoti anche di fare dei 100x140 o dei panelizzati da 6x3 o altri formati che diversamente non avremmo potuto sviluppare. Quindi è stata un'ottima macchina, alla quale poi abbiamo aggiunto in linea una taglierina che ci ha completato sotto questo aspetto, quindi siamo diventati molto più competitivi e abbiamo clienti che ordinano la mattina alle 8, entro mezzogiorno abbiamo già spedito per corriere. Un servizio veramente on demand, diciamo che il single pass ha reso veramente possibile questo tipo di automazione, poi con la taglierina in linea ovviamente eliminate anche tutte le manipolazioni vere e proprie che sono tipiche del mondo dell'OS su 70-100, 50-70 o anche i formati più grandi, dove anzi in realtà lì viene ulteriormente semplificata la vita, proprio perché l'automazione cambia completamente la dinamica e permette anche di abbattere i costi. Non ultimo ovviamente potendo fare, ricordo che producete oltre i 400 metri quadrati all'ora, quindi insomma siete riusciti veramente a rendere e automatizzare quello step che molti molti stampatori che ci seguono ovviamente potrebbero avere anche a loro volta le esigenze, quindi trovate sicuramente in Gabriele o nel premiato stabilimento un esempio pratico di questo. Ma siete andati anche oltre, giusto? Perché come ovviamente trattiamo all'interno del capitolo e si parla appunto della vostra azienda come esempio perché ovviamente la tecnologia è uno strumento di innovazione, è uno strumento di abilitante e di possibile trasformazione. e diciamo come tipologia di opportunità avete anche scelto di entrare nel mondo della pannellistica, perché la vostra parte fondamentale della clientela a cui avevate l'esigenza di proporre non solo il prodotto classico, tradizionale, ma avevate capito che avevano delle esigenze che si orientavano verso il rigido, e da lì avete cercato anche di innovare questo aspetto, giusto Gabriele? Certo, tutto è iniziato ovviamente iniziando ad avere richieste dai nostri clienti già acquisiti, insomma da gare o da altre proposte commerciali, che iniziavano a chiederci anche questo tipo di prodotto, quindi pannelli, separatori, plexiglass, materiali insomma che dovevano essere realizzati e stampati per varie esigenze. E poi soprattutto nell'ultimo periodo, ma direi nell'ultimo anno in genere, la macchina ci ha permesso di stare a galla, difendendoci da un calo di fatturato importante, quindi riducendolo perché ci siamo potuti appigliare alla produzione di materiale Covid, quindi da pannelli a nell'ultimo periodo addirittura abbiamo realizzato separatori, barriere vere e proprie, totem per le vaccinazioni Covid dell'intera regione Emilia-Romagna. Quindi avere una macchina di questo genere in casa ha permesso di realizzare questi prodotti in tempi velocissimi e di soddisfare clienti che da una settimana all'altra, in quest'ultimo periodo, dovevano partire con le vaccinazioni. Quindi non è tutto che abbiamo dovuto lavorare anche il sábado e la domenica in alcuni casi, però insomma in questo momento è una bella soddisfazione, oltre a riuscire a rastrellare del fatturato che non si sarebbe mai potuto raccogliere con il mondo tradizionale della stampa. Certamente. Ricordaci un pochino come avete conosciuto Fenix e qual era stato il primo approccio, qual era appunto l'esigenza e come poi si è evoluta in questo lasso di due o tre anni di attività insieme. L'azienda ha iniziato a sentire appunto questa esigenza di stampare su pannelli, perché appunto prima di comprare la macchina ovviamente ci siamo dovuti appoggiare a fornitori esterni per soddisfare alcune esigenze di nostri clienti o esigenze di gare che comprendevano non solo lo stampato, ma anche in alcuni casi la pannellistica. Quindi con un po' di interviste che vengono fatte abitualmente da parte mia, i fornitori anche di altri tipi di supporti, che sono anche quelli cartacei, si parla, ci si conosce, si hanno riferimenti. In questo caso mi è stato presentato da un fornitore nostro storico di carta, il signor Mantovani, quindi insomma si cerca di fare rete, si è parlato tutti insieme, poi alla fine, diciamo una volta definito il prodotto, riconosciute le qualità e anche la capacità di consigliare l'azienda nel fare un investimento da parte di Alessandro Mantovani, si è deciso di procedere, quindi direi che ad oggi devo sicuramente ringraziare Alessandro per l'investimento che ci ha consigliato di fare e anche il fornitore di carta che me l'ha presentato, perché poi lavorando si continua a evolvere, quindi già ora si sente già la necessità ad esempio di avere un piano di taglio, di avere una macchina con una luce più ampia e quindi come diciamo spesso, l'appetito viene mangiando il cliente, poi una volta che tu ti proponi un prodotto, ha l'esigenza di un altro e l'azienda cerca di crescere di pari passo. È chiaro che purtroppo il momento non è di quelli più propizi per crescere, però siamo un'azienda abbastanza giovane, dinamica, proviamo a investire anche in momenti in cui bisogna avere un po' di coraggio per farlo, però ci crediamo e quindi abbiamo sul tavolo anche nuove proposte, nuovi modi per poter crescere anche in questo settore, ma anche nel nostro settore tradizionale. Perfetto, effettivamente come mi accennavi poco prima dell'inizio della diretta, ovviamente il fatto di aver supplito, grazie al digitale, alla mancanza di quelle che potevano essere le tirature classiche o dei privati o delle attività locali, siete riusciti grazie alle altre attrezzature a poter mantenere, diciamo, quanto più possibile dell'attività e della produzione in essere, giusto? Certo, certo, assolutamente. Confermo perché, ripeto, non avendo questi strumenti, l'anno 2020 e anche il 2021, insomma, nei primi due mesi appena passati, si rivelano in tutta la loro drammaticità, quindi bisogna stringere i denti, cercare di portare a casa tutti i prodotti possibili, immaginabili e quindi avere macchine di questo genere ti permette di poter appunto raccogliere ordini che diversamente non avresti raccolti. Quindi come intravedi questo 2021 e quali ritieni possano essere le sfide principali per il premiato stabilimento tipografico dei comuni? Allora, il 2021 è partito piano, forse peggio ovviamente del 2020, che nei primi due mesi ancora non aveva conosciuto la crisi vera e propria. Anche noi, marzo-aprile dell'anno scorso, avevamo lavorato su commesse già acquisite, quindi tutto sommato ci eravamo difesi, poi noi siamo un'attività essenteale, quindi non avevamo risentito più di tanto della pandemia, non avevamo sempre lavorato, non avevamo avuto malattie in azienda, questo era stato importante. Questo 2021 si dimostra ancora più aspro del 2020, quindi tante aziende sono in difficoltà, non ordinano, non fanno prodotti di cartacei perché poi non c'è una possibilità di poterli distribuire, quindi non ci sono fiere, c'è poca possibilità di andare presso fornitore, e lasciare quello che possa essere un catalogo fisico. Quindi queste macchine ci stanno permettendo, come ho detto poc'anzi, di difenderci e di espandere il nostro mercato, quindi due settimane fa, come ho detto, abbiamo fornito il nostro prodotto all'USL di Modena, all'USL di Ferrara, per citarne alcune, per sviluppare tutto quello che è la segnaletica, la pannellistica legata alle vaccinazioni Covid. In questi ultimi giorni ho sviluppato offerte anche nella regione toscana, interessata agli stessi prodotti. Le barriere in plexiglass, anche queste ci stanno permettendo di difenderci, in un momento in cui c'era anche difficoltà a reperirlo, nel 2020, sono riuscito a trovare sul mercato un fornitore, anche lontano, sono andato a prendere queste barriere di persona, col nostro mezzo, abbiamo tirato su un mercato che in quel momento era impensabile, non ci eravamo neanche mai affacciati in questo settore specifico. Quindi, oltre alle attività classiche, abbiamo protetto soggetti fragili, abbiamo consentito ad attività commerciali come bar di poter lavorare in sicurezza, e lo facciamo tuttora, anche se ovviamente rispetto a quel momento del 2020 si è ridotto, perché comunque il Plexiglass è un prodotto durevole, non è che ogni due giorni è da rifare. Li abbiamo personalizzati appunto grazie alla Shitex, quindi abbiamo coperto non solo la parte della protezione, ma abbiamo creato anche un prodotto brandizzato per chi lo voleva. Quindi anche questo, anche nel 2021, sta continuando, soprattutto appunto, come dicevo prima, nella protezione di soggetti fragili, nel creare uffici ad hoc, nel creare strutture ricettive al pubblico di enti o di comuni, che hanno potuto così consentire ai loro addetti di continuare a ricevere, diciamo, il cittadino presso le loro strutture. Ottimo. Quindi, insomma, diciamo, il digitale, oltre che essere abilitante, vi ha anche permesso, diciamo, di rimanere comunque sul mercato con dei volumi, con presidiarlo, e quindi non, diciamo, non subire più di tanto gli attacchi dall'esterno, che ovviamente ci sono sicuramente stati. Sicuramente il fatto di avere comunque una vera e propria industria, perché siete veramente uno stabilimento di un certo tipo di importanza, con anche le strumentazioni ideali, questo vi ha reso quanto più possibile. Un aspetto che citavi all'inizio, l'importanza dell'intervista, l'importanza di affrontare insieme sia i tuoi fornitori tradizionali, abilitanti dal punto di vista dell'incontro, l'incontro, anche di fare networking con gli altri partner, e allo stesso tempo intervistare anche il cliente per capire in che direzione spostare la vostra produzione. Cosa puoi dirci di più al riguardo di questo aspetto e quanto ritieni il networking fondamentale e anche per chi ci sta seguendo in questo momento, qualora vogliate magari interagire anche con noi o fare delle eventuali domande? Come vedi questo tipo di aspetto per chi fa stampa digitale, tipografi o serigrafi, insomma, stampatori digitali? Cosa puoi dirci, Gabriele? Qual è la tua esperienza? Sicuramente in questo momento il fare rete è uno strumento fondamentale. Il poter conoscere persone o aziende che fanno il tuo mestiere o che hanno intenzione di farlo può portare a uno scambio di rapporti commerciali, a un estendersi delle relazioni che in questo momento aiutano più di tante altre cose perché c'è la fiducia che si può instaurare fra il fornitore, c'è quella che è la mia esperienza che sicuramente, la mia parola, è importante in confronto di un altro cliente che a pari nostro si vuole affacciare sul mercato ma come noi all'inizio ha delle perplessità su con chi farlo, come farlo perché ovviamente tutti i fornitori dicono di essere i migliori. Poi chiaramente si vede solo dopo un po' di tempo qual è la verità. Quindi noi chiaramente come facciamo sempre la nostra azienda è sul mercato da circa 100 anni abbiamo al nostro interno tutta la gamma necessaria per soddisfare le esigenze del clientele e di altri stampatori in alcuni casi dalla stampa, dalla legatoria stampiamo ancora circa 20 milioni di buste abbiamo delle macchine dedicate in un mondo dove si pensa che non esistano più le buste 20 milioni di buste abbiamo tre macchine dedicate abbiamo tutta la parte delle lavorazioni manuali in casa e a tutto ciò abbiamo affiancato questa parte della pannellistica che ho sulla scrivania proprio in questi giorni come dicevo poc'anzi quelli che sono i progetti, le idee per poter ampliarla quindi sicuramente a breve un piano perché diventerà uno strumento fondamentale per andare a fare sagomati per andare a fare un po' di packaging per dare prodotti alternativi perché poi una volta che si hanno le macchine in casa sta nell'intelligenza e nella creatività del fornitore andare a proporre cose a volte neanche immaginate da chi ha realizzato la macchina questo è verissimo e lo riscontriamo tutti i giorni quindi diciamo dall'attività di incontro con altri imprenditori ascoltando quelle che sono le loro esigenze o facendo delle domande che possono permettergli di aprirsi e di capire quella che è la sua esigenza siete poi riusciti a diciamo portare in filone l'attrezzatura e le tecnologie che ovviamente avete al fine di abbinare più prodotti analogico l'astra digitale, offset e la produzione invece vera e propria del grande formato guarda Gabriele io avrei per te un'ultima domanda se non arrivano eventualmente dal pubblico è perché consiglieresti la lettura di più colore al tuo business e secondo te quali sono gli aspetti dove ti ci sei già ritrovato e che suggerimenti eventualmente hai da dare a chi ci sta seguendo io nel frattempo vi posto qui sotto nella parte dei commenti il link grazie che lo stai facendo vedere lo sto facendo vedere ovviamente la copia che mi è stata inviata da Fenix devo ancora terminare di leggerla devo dire la verità però ovviamente ci sono tanti consigli utili tante esperienze di altri imprenditori che ce l'hanno fatta o che come noi ce la stanno facendo diciamo quindi hanno iniziato e stanno cercando di completare un percorso importante e perché comunque ci sono strategie e opportunità per crescere che a volte bisogna ascoltare anzi sempre perché si hanno a volte idee che possono essere sbagliate oppure possono essere parziali oppure ci sono idee che tu ancora non hai proprio neanche sviluppato quindi ti possono aiutare a capire come vendere e come fare cose nuove e come crescere e far crescere la tua azienda quindi in un periodo come questo se ci sono tre persone che non hanno modo di stampare carta almeno si impiegano a stampare pannelli poi ovviamente la speranza è che rimangano lì perché vuol dire che poi l'azienda è cresciuta e quello che inizialmente magari era un piccolo reparto diventa un reparto all'altezza dei tuoi reparti tradizionali quindi è una bella soddisfazione quindi anche l'importanza di riuscire a riqualificare attraverso anche le competenze che poi vengono trasferite dal tuo partner quindi nel nostro caso Fenix per poter apprendere come conoscere la tecnologia e come applicarla alle idee al confronto di cui parlavi prima quindi siete riusciti veramente anche in questo intento magari con, non so, se avete impiegato i più giovani oppure siete riusciti comunque anche a chi magari qualche anno sulle spalle ce l'aveva nel mondo dell'offset a portarlo in questa direzione cosa ci puoi dire? sono curioso sì, sicuramente con i più giovani è più facile abbiamo cercato di utilizzare persone abbastanza giovani insomma per partire perché ovviamente più flessibili poi però col passare del tempo quando anche le persone che sono in azienda da più tempo vedono che le cose funzionano che le macchine lavorano bene che ci sono risultati sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista a volte del vedere posizionato il prodotto di avere un ritorno d'immagine del sapere faccio un esempio sempre recente che in questo momento le persone che si stanno vaccinando hanno al loro fianco un pannello prodotto da te personalmente è una grande soddisfazione questo sicuramente sì è una cosa interessante per chi ci sta seguendo e ha colto i messaggi di Gabriele all'interno del capitolo tecnologia e strumenti dove trovate appunto la citazione ci sono due esercizi vediamo se riesco a farveli vedere il cliente 8020 e il cross-selling e l'up-selling che sono esattamente ciò di cui oggi sostanzialmente ci ha parlato veramente Gabriele pagine diciamo conclusive di ogni capitolo quindi 209, 200 dopo la 209, 210, 211 l'invito di questo libro è appunto quello di riuscire a trovare i nomi dei tuoi 20 clienti che rappresentano l'80% del tuo fatturato e riuscire a capire come poter potenziare ciò che gli stai andando ad offrire e quindi sfruttare le leve appunto del cross-selling e dell'up-selling cioè significa andare ad aggiungere nuovi elementi trasversali rispetto al loro bisogno attraverso l'intervista quindi capirli ascoltarli capirli e poi trasformare in prodotto finito il prodotto così come eventualmente andare ad aggiungere ove possibile una linea nella fattura in più più linee ovviamente all'interno della fattura affinché ci sia la possibilità di sviluppare quanto più business possibile ovviamente con le giuste marginalità e con il giusto ritorno economico credo che lo abbiate sfruttato al 100% pur non avendolo ricevuto in tempo ma ovviamente attraverso il confronto con noi con Fenix con Alessandro Mantovani che è il nostro sales manager di cui ovviamente Gabriele ha il modo sostanzialmente di potersi confrontare costantemente nel corso del tempo per lo sviluppo dell'azienda quindi Gabriele se hai magari un ultimo spunto che vuoi dare un'ultima riflessione e poi salutiamo i nostri i nostri spettatori e ci rivediamo sulla prossima diretta a te la parola no l'unica l'unica riflessione ovviamente insomma oltre a leggere il libro e parlare con le persone che vi possono dare consigli è quello anche di cercare come abbiamo detto prima di fare rete il più possibile anche con i colleghi che possono dare consigli utilissimi essere utili in caso di difficoltà anche a volte di produzione e poi in questo momento tenere duro perché il momento è difficile però non perdere il coraggio di crescere di investire e di creare operazione perfetto grazie Gabriele quindi non mi rimane che invitarvi nuovamente alla lettura di più colore al tuo business e quindi di mettere in pratica tutto ciò che trovate e i suggerimenti ovviamente di networking e sviluppo da parte di Gabriele quindi grazie Gabriele di essere stato con noi in questa mezz'oretta di live insieme agli altri stampatori che ci segue sul canale di Fenix e quindi ti saluto e ovviamente ci rivedremo nei prossimi lunedì con ulteriori dirette e altre testimonianze da parte degli stampatori coinvolti all'interno del progetto di più colore al tuo business ciao Gabriele vi ringrazio tantissimo per essere stato con noi ciao a tutti e al prossimo lunedì ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti